Salvatore Papa, una stagione eccezionale che si chiude col trionfo e con il tuo gol decisivo. Mi immagino che era quello che avevi sognato ed è qualcosa di comunque fantastico. Sì, è veramente bello. Speravamo arrivassi questa promozione, è da luglio che lavoriamo per questo. Poi siamo partiti un po' male, ci siamo rifatti alla grande e fino alla fine abbiamo sofferto. Anche oggi abbiamo sofferto fino alla fine ed è più bello quando si vince così. I tuoi gol e le tue giocate decisivi in questo finale di stagione e non solo? Decisivi un po' tutti, una domenica ho risolto io e una domenica ho risolto qualcun altro. Siamo stati tutti decisivi per il raggiungimento di questo grande obiettivo. Adesso la Lega Pro tutti assieme o ci dovranno fare delle valutazioni? Adesso godiamoci questo momento, festeggiamo, poi si vedrà. Grazie. Grazie a te.